Potrebbe trovarsi nel Reatino il 22enne scomparso da Arezzo nella giornata del 12 settembre. Andrea Falsini, 22 anni, potrebbe trovarsi proprio in provincia di Rieti a causa di una sua passione, il buddismo. Appoggio nativo, infatti, c'è un tempio buddista che potrebbe rientrare tra i suoi interessi. Il padre, Paolo, cerca il figlio in tutte le maniere anche grazie ad un'associazione che promuove la cultura buddista a cui l'Arettino si è rivolto, pensando proprio che il figlio possa aver raggiunto appunto la provincia reatina. Sulla scomparsa indaga la polizia, intanto è accorato l'appello del padre. Sono Paolo Falsini di Arezzo, mio figlio Andrea è scomparso da ieri mattina lasciando un biglietto, non mi cercate, vi voglio bene. Il padre ha subito sporto denuncia alla questura di Arezzo, ma non è da lui fare queste scappate, avrebbe detto. Ricordo che a luglio mi disse che era interessato ai monasteri buddisti e sembra che lo abbiano visto in treno per Roma, ma non sappiamo altro. È alto un metro e 77, capelli corti, occhi celesti, leggere acne sul viso e fino a poco tempo fa pieno di vita. Ha lasciato a casa il cellulare, il borsello e documenti, ha preso soltanto i suoi soldi, circa 500 euro di lavoro, fa il tipografo.